Ladri scatenati a battipaglia. Nel mirino dei malviventi sono finiti i parcometri sparsi nel centro cittadino. I malviventi hanno rubato le monete che erano all'interno dei parcometri e le hanno aspirate con gli aspirapolveri, riuscendo a rubare 5.000 euro. I ladri hanno utilizzato trapani e altri arnesi da scasso e poi hanno utilizzato gli aspirapolveri per impossessarsi del denaro. La zona più colpita, ovvero dove sono stati sfasciati i parcometri per mettere a segno i furti delle monetine, è quella attorno al municipio di Battipaglia, in pieno centro, a ridosso di piazza salvo d'acquisto. Sull'episodio indagano gli agenti della Polizia Municipale, che hanno acquisito i filmati realizzati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza comunale. E tenteranno di smascherare la gang che ha messo a segno i furti. I parcometri, dopo essere stati bucati con i trapani per rubare le monete, sono stati coperti con tappi di gomma, per evitare che ci si accorgesse subito che erano stati svuotati. Nelle scorse settimane ad Eboli sono stati tagliati i parcometri e sono stati rubati, ma il bottino con cui sono fuggiti i malviventi è stato molto minore dei furti messi a segno a Battipaglia. Intanto i vigili urbani hanno informato i magistrati della Procura della Repubblica di Salerno, ed è scattata l'indagine contro i gnoti per furto aggravato e danneggiamento. Grazie a tutti.